E di chiara Anna Ricca di voler prendere Luca come suo sposo? E di chiara Anna Ricca di voler prendere Luca come suo sposo? Abbiamo sentito Luca. Allora io, lei perfettiva delegata dal SEMERCO, in qualità di ufficiale di stato civile, posso pronunciare il nome della legge che Luca è Anna Ricca. Qui presenti oggi sono vitti in matrimonio!